Il secondo tempo, perché questa differenza tra la prima frazione di gioco, l'abbiamo scritto anche noi, eravamo a Sant'Arcangelo e è stata evidente questa disparità di prestazione. La bocca leggermente abbassata ai minuti mi dice no, non sono d'accordo. No, non sono totalmente d'accordo, nel senso che secondo me sono state espresse nei giudizi troppo severi e affrettati, perché... Questo è andato a un momento caldo, che mi interessa, ma tu hai qualcosa di vale? Sì, no, perché ti spiego, questa partita secondo me è una partita che va anche contestualizzata. Controviamo una squadra che al di là del nome, che non è Roboante, però è una squadra che ha segnato due gol contro Venezia, una squadra che è nata a vincere a Fanno 2-0, una squadra che ha fatto tre gol all'interno di Salò, quindi è una squadra di salute, è una squadra fatta di Trevilini, che in questo momento può creare problemi a chiunque. Giocavamo in un clima particolare, c'era un campo molto difficile, proprio perché non consentiva di giocare in velocità e soprattutto faceva un caldo intervento. Detto questo, mi sembra che il Parma abbia tenuto il campo bene nel primo tempo, ovviamente ha fatto secondo me il Parma una buona gara. abbiamo probabilmente però tirato un po' più in porta, però meno male il gol l'avevamo fatto. Nella ripresa, io almeno penso di averla vista così, per i 20 minuti che siamo arrivati al canzo e non abbiamo praticamente passato la metà campo, è stato un dominio totale del Parma, che però, ecco lì, l'infetto grosso non ha tirato in porta. Questo è un punto di miglioramento e questa squadra deve evolversi proprio sotto questo aspetto, perché è una squadra che sta cercando la propria identità, è una squadra che sta cercando i propri equilibri, ha trovato secondo me un assetto difensivo importante, adesso bisogna sviluppare la crescita e cercare di avere una mentalità più offensiva e ovviamente di sfruttare anche quel potenziale che abbiamo, perché indubbiamente nel reparto avanzato abbiamo giocatori che conoscono la categoria e che hanno una grande abitudine con il gol e in queste prime giornate non si sono visti tantissimo, perché probabilmente la squadra non li ha messi nelle condizioni. Ecco, poi magari il punto dolente della gara sono stati i ultimi 10 minuti, dove invece siamo calati riscosamente e secondo me non abbiamo interpretato bene la gara, perché abbiamo processo troppo campo a loro, anche se ci siamo fatti prendere forse dal momento, ma se lo andiamo a rivedere mi sembra che il Sant'Arcanzio ha fatto una mischia, che è stato un barco di partiti in area, non ci ha creato problemi, però sono stati 10 minuti molto brutti, questo è un po' un diritto. Allora, è lecito chiederti, cos'è che non funziona, visto che i tuoi sforzi sono stati concentrati soprattutto nel prendere 2-3 grandi attaccanti che dovrebbero garantire quei goal che portano, lo chiamo ferro, insomma, nelle zone alte le arriva al sud, perché ancora si fa fatto? Io credo che se uno potesse fare la squadra ideale metterebbe giocatori con caratteristiche che sono complementari, si sposano perfettamente e allora tu trovi delle combinazioni, trovi delle alchimie che vengono piuttosto naturali. Poi invece le dinamiche di mercato, le situazioni che tante persone, il primo truppo lo vedo qua davanti, magari molti sono portati a considerare solo gli aspetti tecnici di una scelta, ma non considerano che quando si va a fare mercato, quando si costruisce una squadra, le variabili sono tante, dal punto di vista economico, dal punto di vista della disponibilità dei giocatori, dal punto di vista della categoria, dal punto di vista degli obiettivi che una società si dà. E quindi chi opera e chi costruisce un team deve tenere conto di tutti questi aspetti. Le evoluzioni di mercato ci hanno portato, secondo me, ad avere due percanti straordinari, come Vaco e l'altro Calaio, però bisogna anche andare ad analizzare più a fondo e capire che per esempio Vaco ha una storia che parla chiaramente di lui, un giocatore che non ha mai fallito una stagione, che però sicuramente fa fatica ad andare in fondo. Calaio è un altro giocatore che ha un lusso per questa categoria, ovviamente stare un mese ad allenarti con lo specchio, senza fare una tucchevole, senza magari avere la testa colpito giusto, poi mettersi in moto e trovare subito intensità, considerando che sono anche due giocatori di 34 anni. Quindi ci sono degli equilibri e degli stati di forma che vanno cercati, cercando di curare bene le relazioni, i rapporti, lo spogliatorio. Ci sono tanti aspetti che vanno messi sul tavolo. Non dimentichiamoci che Vaco ha fatto due panchine consecutive che forse nessuno si immaginava. Noi quando facciamo le probabili formazioni credo che le abbiamo sempre messo in campo invece a Poloni, evidentemente, sulla storia. No, no, ma io credo che alla fine la squadra è stata costruita per avere Vaco e Calaio in campo, però sappiamo anche che poi abbiamo tanti altri giocatori che hanno altre caratteristiche e soprattutto due attaccanti così che li può permettere quando la squadra avrà un'identità tattica ben precisa, quando la squadra ha una condizione elettrica importante, per cui ci arriveremo per grafico. Però questo era tutto, credo, abbastanza prevedibile, quindi io non farei troppo l'artismo. È normale che tutti noi ci aspettavamo magari di poter partire con qualche punto in più, però i segnali positivi ci sono e ci sono i miei 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 miei